Mi volete dire qualcosa su questo Art Festival? Che dire, siamo un po' emozionati, aspettiamo che inizi. Io sono curiosa di vedere i Domino, molto curiosa, che è il primo gruppo. Siamo qui, fa caldo, siamo contento. Volete dire qualcosa sull'Art Festival, cioè da quanto c'è questa festa? C'è Virginia. E per quale motivo è stata fatta da un centro di aggregazione? Cosa c'entra l'arte con un centro di aggregazione? L'arte con un centro di aggregazione c'entra moltissimo, perché nei centri di aggregazione vengono un sacco di giovani, ragazzi, che hanno bisogno di esprimersi. E per loro questa festa è ottimale, perché riescono a esprimersi cantando, facendo vedere le loro arti attraverso i quadri, la pittura, le fotografie. Sono giovani artisti molto bravi, perché appena visti i loro quadri sono bravissimi, adesso ascolteremo cantare tutti i gruppi, bravissimi anche loro, balleralli pop, insomma, un pomeriggio di sede all'inzone. Sono giovani artisti molto bravissimi, Lui è come se lui volesse disegnare tre caratteri differenti di Vaza e dare a ognuno Un punto di sentimento, un punto di passione perché la colorazione è abbastanza scura o comunque con dei toni tenui quando invece vediamo non solo punti di fungo ma sono punti che saldano all'occhio come per esempio il rosso del cuore o il rosso dell'occhio per esempio come l'effetto che fa una fotografia quando tu guardi nel flash Qui c'è uno studio dietro di carattere antropologico e morfologico Qui c'è uno studio dietro di carattere antropologico e corattere antropologico e corattere antropologico Che dire? Siamo un po' emozionati! Aspettiamo che inizi! C'è la bestia che ci resta e là sì, fa Che piace di noi, ci resta e là sì, farò buon curioso E il potere che ci metti, mi paga più schissà Tra l'altro sempre fatto, se sei un biselà A vita trovo bella, che ritieni la giurazione Dai, spiegiamo che va tutto bene perché... Però è tipo, un anno o poco di più che suoniamo Dopo alle feste, dai, cerchiamo dei posti da suonare Ehi, ehi, ehi Oh, 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 yeah Grazie a tutti Hai visto la mostra segreta Pallo? Hai visto? Hai visto le giornate sirene che vai avanti? Guarda che c'è lo che c'è dasce Pallo? Buongiorno!